Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosporio 07, siamo qui per analizzare sicuramente un argomento molto discusso di questi tempi, cioè chi è più forte in realtà tra Leclerc e Verstappen, magari anche a parità di macchina, scopriamolo. Ci tengo a sottolineare che questo è solamente un mio parere, quindi liberissimi di pensarla come volete, io analizzo dei dati, analizzo le statistiche, analizzo il loro comportamento in pista e traggo le mie somme su chi potenzialmente è il più forte e chi potenzialmente è il più costante, è già da qui, vi ho spoilerato mezzo video. Partiamo dal Messia, Charles Leclerc, Charles Leclerc arriva in Formula 1 dopo aver vinto GP3 Formula 1 ed è il primo pilota in assoluto per riuscire a conquistare questo traguardo per due anni di fila, traguardo che poi sarà replicato da Oscar Piastri e se non erro anche da George Russell, però comunque Leclerc è il primo a raggiungere questo traguardo. Arriva in Formula 1 nel 2018 dove ottiene più del quadruplo dei punti del suo compone di squadra, l'Alfa Romeo, Marcus Erikson e dove soprattutto spicca nella seconda parte di stagione perché nella prima parte non si ritira comunque quasi mai, si ritira solamente in Gran Bretagna per quanto riguarda la prima parte di stagione e ottiene tre volte un decimo posto e una volta un nono posto. Gli altri piazzamenti sono dodicesimo, tredicesimo, diciannovesimo e spicca soprattutto un sesto posto in Azerbaigiano dove comunque non è andato a sbattere tutti quindi era difficile anche solo terminare dalla zona punti. Poi nella parte finale del campionato si sveglia tutte le gare che riuscirà a finire sarà il primo degli altri perché a Sochi nel New Mexico, in Brasile in Abbottabile, Leclerc farà settimo, ovvero dietro i tre top team Mercedes, Ferrari e Red Bull e quindi riuscirà ad accapararsi molti molti punti in questa parte finale della stagione che gli permetteranno di passare dalla diciassettesima alla tredicesima posizione del campionato. Ma soprattutto in Brasile con pista peggiorata riesce a migliorare il suo tempo e ottenere una qualificazione in Q3 che veramente sarebbe stata insperata. Quindi qui già si inizia a vedere il gran talento di Charles Leclerc che l'anno dopo approverà in Ferrari dove batterà nel suo primo anno Sebastian Vettel ma si renderà protagonista anche di alcuni errori. Alcuni dove peccherà di nervosismo ma ci sta, il primo anno in una scuoteria di Maranello non è affatto semplice, ma sarà anche Polman del 2019 con ben 7 pole all'attivo di quell'anno, 5 in più del compagno di squadra, 4 volte campione del mondo. Insomma, Sebastian Vettel è il pilota che io tra l'altro adoro e Leclerc adoro anche lui ma ne ha di strada da fare per farmi emozionare come mi hanno fatto emozionare il pilota tedesco X Red Bull. Ma ragazzi, nel 2019 si rende soprattutto Leclerc il protagonista di alcuni errori di guida pura, soprattutto quelli a Baku in qualifica e a Tokenheim in gara. Peccato, poi Monaco ha fatto veramente dei bei sorpassi però è stato sfortunato con la scuderia che non gli ha messo sul piatto un'ottima strategia. Poi anche in Brasile ha combinato un mezzo casino con Vettel, però insomma, a parte questo ottiene 4 poti consecutivi per 2 volte quell'anno, tra il Belgio e la Russia, ma soprattutto tra il Canada e la Gran Bretagna, dove tra l'altro otterrà anche le sue prime pole position. Molto molto bene quindi fino alla stagione di Charles Leclerc che si era visto anche fin dal Bahrain dove avrebbe potuto vincere la sua prima gara, evento rimandato solamente di qualche mese perché poi vincerà a Spa, l'anno dopo la Ferrari sparisce dai radar. Nonostante ciò Leclerc riesce comunque ad ottenere 2 podi, tra l'altro anche inizio campionato, nonostante questo Leclerc ottiene 2 podi e alla fine la stagione non terminerà per niente nei migliori dei modi perché la Ferrari sarà settima nei costruttori e Leclerc sarà ottavo nel campionato piloti. Passiamo ora al 2021 dove Leclerc riesce nell'incredibile impresa di fare solamente un podio, quindi meno da 2020 pensate, ma sicuramente una stagione veramente alquanto sfortunata per il Monegasco. Una stagione veramente sfortunata dove terminerà settimo, ha solamente pochissimi punti dal quinto posto, che sicuramente in pista avrebbe meritato, ma si rende protagonista di alcuni episodi che non gli girano a favore. Possiamo per esempio dire Monaco, dove partiva in pole e alla fine non è partito più, Ungheria, eccetera, eccetera. Mi sono soffermato veramente tanto su Charles Leclerc, ma nel corso italiano abbiamo visto come abbia una guida veramente sopraffina. Ha ottenuto addirittura 2 pole nel 2021, ha battuto Sebastian Vettel, ha battuto comunque Marcus Eriksson, che era da tre anni in Formula 1, lui al primo anno ha ottenuto il quadruplo dei suoi punti con l'Alfa Romeo, che era anche il suo primo anno con la Scuderia, si adatta subito alle situazioni ed è un pilota veramente estremamente veloce nel ritmo gara, ma soprattutto il suo vero pezzo da 90 che è nel curriculum e la qualifica. Passando invece ad analizzare Supermax Verstappen, Supermax Verstappen arriva in Formula 1 nel 2015, dove comunque riesce ad ottenere molti più punti del confronto di squadra Carlos Sainz, che comunque lo batte nel confronto nelle qualifiche. Nel 2016 viene promosso in prima squadra Red Bull, dove vince al debutto e ottiene comunque una serie di poti qua e là durante tutto l'anno. Si conclude veramente una superannata, dove Verstappen riuscirà anche a battere Kimi Raikkonen, ma dove sarà costantemente dietro a Daniel Ricciardo. Nel 2017 le cose cambieranno, Max Verstappen si dimostra il livello di Ricciardo, ma fa veramente troppi, troppi errori nel corpo a corpo, che gli costano veramente tantissimi punti nel campionato, dove alla fine riuscirà sia ad ottenere due ottime vittorie e quattro poti totali con zero goal position, ma soprattutto riuscirà Max Verstappen ad ottenere la fiducia degli uomini Red Bull, che da questo momento in poi punteranno quasi esclusivamente su di lui. Infatti nel 2018 riesce per la prima volta, dopo tre stagioni, a battere Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo che però conta ben otto ritiri alla fine dell'anno, che su 21 gare in epoca moderna sono veramente tantissimi, mentre Max Verstappen di ritiri ne conterà praticamente la metà. Ancora una volta, soprattutto nelle prime gare, Max Verstappen si rende protagonista di alcuni errori, non di guida pura come le Clerc, ma errori nel corpo a corpo, ragazzi. E quindi terminerà l'anno comunque in quarta posizione, riuscendo a battere non solo Daniel Ricciardo, ma anche Valtteri Bottas, non però Kimi Raikkonen. Nel 2019 ottiene il suo miglior risultato fino ad ora, cioè fino a quel momento, ovvero il terzo posto nel Mondiale Piloti, perché quell'anno le Ferrari faticano parecchio e Verstappen riesce a battere di 14 lunghezze Charles Leclerc e di circa 20-25 punti Sebastian Vettel, arrivando terzo nel campionato, contando tre vittorie alla fine, ma soprattutto ottenendo le prime due pole position della carriera. L'anno successivo le Ferrari continuano a remare malissimo, letteralmente nuotano nella merda, e quindi Verstappen deve solo combattersi il secondo posto con Bottas, confronto che alla fine sarà vinto dal finlandese, mentre Hamilton vincerà l'ennesimo mondiale in scioltezza. E quindi per Verstappen questi anni alla Red Bull, 16, 17, 18, 19 e 20, sono anni dove almeno una vittoria ogni anno l'ha accolta, in quattro anni su cinque ha accolto inoltre almeno due vittorie, e quindi Max Verstappen terminerà quell'anno con la piena fiducia degli uomini Red Bull, ma soprattutto combattendosi il mondiale con Lewis Hamilton nell'anno successivo, riuscendo a vincere alla prima occasione utile il titolo mondiale, dimostrando veramente concretezza assoluta a Max Verstappen, ottenendo una merita di vittoria, una merita di pole position, miglior poleman dell'anno, vincitore del pilota che ha vinto più gare, ma soprattutto anche il pilota più costante, perché Hamilton ha fatto qualche errore, se andiamo magari a vedere Imola, è un discorso che faccio sempre, poi Verstappen è stato sfortunato tra Gran Bretagna e Ungheria, dove ha perso una cosa come 40-45 punti nel confronto con Lewis Hamilton, e alla fine ragazzi riesce comunque a vincere il titolo mondiale. Notate delle differenze con Charles Leclerc, almeno per quel che riguarda le due carriere? Sì ragazzi, nel 2022 si combattono praticamente il mondiale fino a questo momento, nonostante Leclerc in questo momento sia primo e Verstappen sia sesto nel mondiale, però si sono combattuti le vittorie in tutte e tre le gare su tre, su questo non ci può, non c'è più nessun pilota che si è combattuto la vittoria in queste prime tre gare, se non Leclerc o Verstappen. E allora quindi da dove possono sorgere quelli che potrebbero essere i nostri dubbi su chi è più forte tra loro due? Io credo che, a prescindere che quest'anno la Ferrari possa essere più forte della Red Bull, quando la macchina è uguale per tutti e due, comunque secondo le loro caratteristiche di guida, questo è chiaro, io credo che potenzialmente tutti gli altri piloti sono qui, da qui in giù, qui. Verstappen e Leclerc, quanto a ritmo gara e quanto a velocità sono qui ragazzi, per me è anche un pelino sopra di Lewis Hamilton, se andiamo a fare una classifica generale. Quindi questo è il livello più alto della Formula 1, Leclerc e Verstappen. Non ci metto Russell e Norris perché devo ancora volutarli appieno e Norris in questo momento rispetto a Russell, Leclerc e Verstappen sono sicuro che abbia qualcosa in meno, l'ha dimostrato quando aveva delle occasioni per vincere come Russia e non è stato, diciamo, approvato il suo metodo di stare contro la scuderia, ma vabbè, non voglio entrare in discorsi che ora non c'entrano nulla, ma potenzialmente Leclerc è sopra Verstappen. Leclerc è un pilota che si spinge addirittura più al limite di Max, e sembra strano perché questa è veramente la data migliore di Verstappen, spingersi al limite più degli altri piloti, perché quello fa la differenza in Formula 1, perché uno va più veloce di un altro? Perché se uno sta lì a frenare 100 metri prima della curva, è chiaro che la curva la farà, non andrà a sbattere se freni 100 metri prima. Oddio, Formula MotoGP frenano anche prima di 100 metri, però a volte. Però, ragazzi, se tu vuoi essere sicuro di fare la curva, è un discorso elementare, freni molto prima e sei sicuro che la curva la fai. Se invece vuoi farla più velocemente possibile, freni il più tardi possibile, praticamente al limite, guadagni quei millesimi che ti fanno fare la pole position, e sei il pilota più veloce. In questo Leclerc e Verstappen sono migliori. Io credo però che Leclerc, come guida pura, sia migliore di Max Verstappen, quindi lo metto un pelino sopra. Quindi chi ha il più forte che tu è Leclerc, punto. No, non è finito il video. Ma Leclerc, spingendosi più al limite, soprattutto nelle curve strette, lo fa lui, spingendosi, anche perché nelle curve larghe, certe volte in qualifica le fai anche in pieno, spingendosi più al limite, è quello che fa molti più errori di guida. Charles Leclerc. Max Verstappen, io l'anno scorso, non ricordo un singolo errore di guida. Ha avuto forse qualche errore? Questo sì, nell'arco di una stagione veramente complicatissimo, non fare per nulla errori. Perché, per esempio, Max Verstappen, in tutta la sua carriera, che io ricordi di errori di guida pura, io ricordo l'anno scorso in Arabia Trapidetta, dove comunque aveva un secondo di vantaggio su Lewis Hamilton, quindi apri di cielo. Ma io credo che Verstappen, quanto al ritmo gara, sia più costante. Sono due piloti molto simili, questo sì. Entrambi, quando prendono un giro, continuano a martellare su quel ritmo, martellare su martellare. E quindi è la caratteristica migliore di tutte e due. Ma Leclerc lo fa ancora più di Verstappen, ma questo lo porta a fare più errori di guida pura, perché finora io ho visto Leclerc fare molti più errori di guida pura di Max Verstappen, che sempre per quanto riguarda la guida è meno veloce, secondo me, di Charles Leclerc, ma più costante di giro in giro. Cioè, Verstappen, se è al ritmo dell'1.29.4, te lo tiene ogni cazzo di giro. Leclerc te lo tiene, ma su dieci giri ci sarà sempre un giro che avrà fatto un decimo, un decimo e mezzo più lento, perché ha fatto quella lenticchia di errore per perdere quel decimo e mezzo di quel giro. Ho detto un decimo e mezzo, ma possono anche essere tre decimi, quattro decimi, dipende dalla curva, ragazzi. E devo dire che quest'anno il tutto gioca a favore di Leclerc, perché ha già 45 punti di vantaggio su Verstappen, che sono tanti, ragazzi. Sono veramente tanti, 45 punti di vantaggio, ma gli episodi a sfavore arriveranno anche per Leclerc, perché in condizioni di gara normali Leclerc sarebbe a più 10 su Verstappen, perché hanno vinto due gare, Verstappen sarebbe arrivato secondo nelle gare dietro Leclerc, forse terzo per Carlos Sainz in Bahrain, o sempre in Arabia Saudita, Carlos Sainz, se fosse perdito bene, avrebbe forse scavalcato Verstappen, dato il ritmo della Ferrari, però, ragazzi, io la mia idea ce l'ho. Per me Verstappen fa il suo ritmo e secondo me sarebbe a meno 10, meno 13 di Leclerc in condizioni normali. Ha avuto due gare veramente sfortunatissime, perché ha perso circa 36 punti, due secondi posti sono 36 punti, e che comunque fanno veramente, veramente brodo. Oppure un secondo, un terzo posto avrebbe perso Verstappen in 33 punti, ma gli errori, e soprattutto gli episodi a sfavore, arriveranno anche per Leclerc, ragazzi. Quindi, teniamoci stretto a questo cazzo di vantaggio che abbiamo su Verstappen e sulla Red Bull. Tutto gira a favore di Leclerc, e stavo dicendo soprattutto per il fatto che Leclerc, essendo quello che fa più errore di guida pura, è quello però che ha la macchina con il telaio migliore, perché quest'anno la Ferrari è migliore in telaio aerodinamica rispetto a Red Bull, soprattutto nelle curve strette, curve veloci, ma per quanto riguarda la velocità sul rettilineo e il motore, in questo momento la Red Bull, con il suo motore Honda, che in realtà è intitolato Red Bull, è leggermente un pelino sopra la Ferrari, e quindi la Ferrari su questo perde, dovrebbe forse lavorare, o forse no, perché in questo momento se è su due circuiti più trevo e più veloce, potrebbe anche rimanere così. La mia risposta, io ragazzi l'ho data, per me il più forte in questo momento è Charles Leclerc, ma così, cioè non il più forte, è quello che ha potenzialmente più ritmo, quello che è potenzialmente il più veloce in pista, ma non significa essere il migliore tra i due, per essere il migliore tra i due devi essere quello che perde i meno punti possibili, però che finora per le stampa ne ha persi i 33, ma non li ha persi per colpa sua. Quindi io credo che potenzialmente il più forte è Leclerc, ma il più costante sul ritmo gara è il Monegas, che ci deve ancora lavorare. Il più forte è Leclerc, ragazzi, ma io vi dico non ci badate, badate solamente a sedervi su una cazzo di sedia, a guardare le gare tutte le domeniche, e godervi questo spettacolo, perché tre gare su tre con Leclerc e Verstappen che si combattono la vittoria, per noi amanti dei motori è puro porno, ragazzi.